Il teatro si mette a disposizione del Teveni? Sì, assolutamente, un doppio appuntamento, sabato 16 febbraio, alle ore 21 entrambi gli appuntamenti. Al Cinema Nuovo di Capolona sarà in scena il nostro mago, oramai famoso Danny Magic, mentre la compagnia teatrale Il Polvarone sarà di scena ad Anghiari, al Teatro dei Ricomposti. Due iniziative in favore sempre di Casa Teveni, visto che abbiamo incrementato i servizi, abbiamo anche incrementato i bisogni. Parliamo dei servizi che voi offrite, ricordiamolo, perché fa sempre bene. Sì, Casa Teveni, oltre alla solita accoglienza, che oramai è una storia ultra secolare, di accoglienza a ragazze e madri, donne vittime di violenza, ragazze sottratte alle famiglie, minorenni. Quindi dal primo dell'anno abbiamo assunto un nuovo servizio, dopo scuola aperta tutta la cittadinanza, nei locali comunali di Via Pierluigi da Palestrina. Un altro motivo in più per aiutare il mondo del sociale, senza ovviamente volersi sostituire a nessuno, agli organi preposti, però una richiesta specifica del Comune a cui abbiamo aderito convintamente e con altrettanto entusiasmo stiamo portando avanti anche questo nuovo servizio. Grazie. 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 Grazie.